Bene ragazzi, ciao a tutti, volevo darvi questa informazione relativamente a quello che è successo questa mattina, un grande regalo da parte di Uniswap per tutti noi perché è stato creato l'Uniswap Token che in sostanza è un token di governance per quanto riguarda l'exchange decentralizzato di Uniswap allora ragazzi questo token intanto vi dico già da subito è stato regalato a tutti quelli che hanno partecipato alla pool di Uniswap nei giorni scorsi e quindi se qualcuno di voi ha partecipato a questa pool lo vedete in questo momento sono state regalate un 400 Uni a tutti quelli che insomma hanno partecipato ai protocolli Uniswap V1 e V2 con i propri contratti e poi in base anche all'utilizzo delle fee quindi quando avete scambiato in pratica su Uniswap una serie di contratti io questa mattina mi sono trovato questa situazione con 506 Uni come regalo, gentilissimo ho fatto il claim ma la struttura, la situazione della rete Ethereum non permette di ricevere questi Uni in sostanza a meno che ragazzi non abbiate la possibilità attraverso il wallet di Metamask di andare a modificare le fee cosa che io non ho fatto perché ho utilizzato il wallet di Coinbase per dare liquidità alla pool di Uniswap con i vari investimenti che abbiamo fatto con Ampol ragazzi i famosi Kaiser di cui ho parlato già da un po' e quindi insomma Uniswap ci regala questo token ci sono una serie di notizie ed informazioni che potete leggere relativamente a quello che è questo Uni e a quello insomma che potrebbe fare ragazzi in sostanza io ancora non ho le idee chiare sul fatto se terrò o meno questi Uni come token però volevo darvi l'informazione a tutti quanti voi e soprattutto farvi vedere il grafico di Uni come token per capire perché credo che moltissimi di voi in questo momento si stiano facendo questa domanda li vendo non li vendo perché perché ragazzi questo token ha fatto dal lancio il più 1000% nella giornata di oggi solo roba da in sostanza da ragazzi criptovalute solo da questo mondo che veramente non ci lascia un attimo liberi ed è meraviglioso proprio per questo però il problema è ragazzi cosa facciamo? Li vendiamo? Non li vendiamo? Ora premesso il fatto che ragazzi analisi tecnica su un grafico che ha un giorno di vita è una barzelletta quindi al di là di questo discorso qui quello che potremmo fare in questo momento è semplicemente fare delle considerazioni che farò io con voi qui in questo video di natura solamente personale quindi soggettiva opinabili chiaramente ma sono le considerazioni che farò io ragazzi allora questo token è stato intanto regalato quindi probabilmente nelle giornate di oggi è avvenuta una corsa alla vendita totale di questo token però ragazzi è anche vero che viene creato per risolvere il problema che era stato messo in atto da Sushi quando la piattaforma ha copiato interamente il protocollo Uniswap che era insomma il primo era avanti tutti insomma ma Sushi ha creato un po' di scompenso in sostanza io penso ragazzi che questo token abbia il compito di fare concorrenza al discorso Sushi e quindi non credo che verrà affossato questa è la mia idea per un discorso di competizione fra queste due situazioni che come sempre ragazzi sono dei discorsi di natura diciamo politica delle criptovalute chiamiamoli così quindi in pratica le nostre opinioni contano sicuramente ragazzi ma poi chi sa veramente cosa succederà non siamo noi ed è difficile sapere queste cose perché probabilmente questi token saranno poi stramanipolati in tutti i modi anche a livello di prezzo per farsi concorrenza l'un l'altro quindi vedremo la risposta dall'altra parte quale sarà però come andiamo noi a reagire a un discorso del genere cosa farò io intanto con i miei uni ragazzi intanto i miei uni sono bloccatissimi qui perché non me li danno in quanto vedete la transazione in pending da ben 5 ore questo è il mio il mio wallet di coinbase con qualche iter che vedete qui sul conto quindi li uso questo conto lo uso per fare i geyser di geyser di ampoule e quindi insomma sono arrivati qui quindi fin tanto che non li sbloccano io ovviamente non li avrò in realtà un mio utente della trading on academy ragazzi mio utente premium mi ha svelato un trucco per poterli spostare su metamask e quindi accelerare il processo della consegna di questi uni attraverso la possibilità su metamask di pagare più fee quindi aumentando le fee ragazzi voi andate poi a fare il claim velocemente di questi uni considerando quanti ne ho io sarebbe fattibile perché in ogni caso anche aumentando le gas fee non dovrei avere problemi insomma visto l'importo di uni che mi hanno regalato allora ragazzi però ho deciso che intanto non ho il tempo in questo momento di farlo perché è comunque un processo che richiede un po' di marchi ingeni quindi va un po' seguito e in questo momento non riesco a farlo quindi o lo farò questa sera oppure aspetterò che mi vengano consegnati questi uni che probabilmente sarà domani a questo punto perché perché ragazzi entrando nel vivo di questo video di quello che è il concetto che sta dietro questa situazione quello che mi interessa guardare è il grafico di uni grafico di uni che in questo momento ragazzi è difficile anche da controllare perché come vedete qui c'è stato uno spike per esempio su Binance potremmo vederlo perché intanto l'hanno quotato tutti gli exchange cioè non tutti ma comunque un sacco di exchange questo già la dice lunga ragazzi anzi vi faccio vedere anche le altre quotazioni con gli altri grafici ecco ragazzi questo è come viene riportato il token uni contro Tether relativamente a Binance da su un trading view ragazzi ma ci sono anche altri token vi faccio vedere altri exchange vedete che hanno già quotato il token di uniswap e vedete in questo caso quello più interessante per esempio è Qcoin e così ragazzi quello di Qcoin e poi il grafico forse più adatto già su trading view lo vediamo su OKX che è un grafico forse un pochettino più normale perché ragazzi sto facendo questo discorso? perché mi interessava andare a guardare il grafico generale di questa criptovaluta questa vedete è quella calcolata poi da trading view per capire e farci una domanda intanto l'ho messo a un'ora allora conviene o meno chiudere queste operazioni ne scendiamo magari il token per guardare uno zoom più grande ragazzi allora questo token è vero che è arrivato a livelli stellari con i soliti pump delle criptovalute è arrivato fino a 4 lo possiamo vedere anche su Binance che qui abbiamo uno spike a 15 chiaramente totalmente fake ragazzi quindi un errore di prezzo probabilmente qui c'è stato uno scambio di un contratto, due quindi niente di rilevante non lo dovete considerare e questo discorso è già stato fatto per esempio dalla creazione di trading view quando calcola i prezzi quindi toglie diciamo questi contratti fasulli magari dai grafici ma quello che possiamo vedere in questo momento su questo grafico è un discorso molto chiaro questo è un trend rialzista ragazzi quindi ok che ha questa struttura però fin tanto che la coin non scende al di sotto dei 2,5 vedete questo prezzo qui in questo momento non è effettivamente importantissimo vendere questo titolo scusate questo token perché? perché potrebbe tutto sommato andare a salire ancora ragazzi fare una cosa del genere potrebbe ancora salire allora come si fa a gestire queste operazioni che hanno questi pump? intanto si ragiona così abbiamo avuto un regalo questo è un regalo perché non era previsto e quello che dobbiamo poi considerare in questo caso ragazzi è che tutta questa struttura che voi vedete che si vede in questo momento sta subendo una serie di continue vendite quindi noi abbiamo un trend del genere nonostante l'afflusso di vendita di questo token è costante quindi c'è qualcosa che non va in sostanza qualcuno sta accumulando semplicemente qualcuno sta tenendo il token alto probabilmente uniswap perché intanto è stato è schizzato su ma poi a parte questo tutta questa fase è tecnicamente una fase di vendita quindi di distribuzione del token eppure non abbiamo dei ribassi sì abbiamo avuto questo mini trend ribassista in questo momento però è semplicemente una barra di congestione quindi il token sta reggendo discretamente insomma questa fase di vendita fase di vendita che terminerà probabilmente quando tutte queste operazioni in pending sulla rete di Ethereum saranno sbloccate a quel punto potremmo anche magari avere un'idea generale di quello che potrà succedere su questo token e se effettivamente potremmo andare ad avere un nuovo trend ribassista o meno cosa fare con il token uniswap quello farò io lo tengo fino a quando non mi accreditano queste coin non mi danno queste coin con il claim sul mio wallet se vedo dei movimenti strani opterò per la procedura di sblocco e di aumento delle fie attraverso metamask quindi chi ha metamask ragazzi lo può fare direttamente chi ha coinbase wallet bisogna optare per questa procedura che mi ha indicato Ale che io tra l'altro saluto e ringrazio ciao Ale per la gentilezza me l'ha indicato in Academy e mi ha spiegato un po' come fare questa procedura quindi qualora dovessimo volessi sbloccare questi token per venderli prima opterò per questa struttura per questa diciamo procedura abbastanza complessa comunque in generale ma ragazzi guerra tra le due fazioni sushi e uniswap chi ne beneficia sicuramente noi se ci fanno questi regali comunque grazie a uniswap per questo regalo e beh che dire ragazzi criptovalute un mondo unico un mondo unico veramente da starci sopra veramente tutti i giorni va bene ragazzi allora fatemi sapere cosa state facendo voi per fare il claim è facilissimo comunque ragazzi entrate nel uniswap andate a collegare il vostro wallet vi appare questa scritta e cliccate su claim your unitokens quindi semplicissimo non vi fate fare tutorial inutili fatemi sapere cosa fate voi con questi token ciao a tutti